Sicuramente è un momento importante, per me personalmente è un'occasione che sognavo da quando ho smesso di giocare perché ho una passione per questo sport e quello che volevo fare, mi sento pronto, ho tanta voglia sto cercando di trasmettere entusiasmo perché è il modo di fare calcio che voglio io, che mi è sempre piaciuto il momento secondo me è delicato perché comunque quando c'è un esonere di un allenatore c'è sempre qualcosa che sicuramente non è andato per il verso giusto, però abbiamo anche, c'è anche da dire che la classifica non è delle peggiori, comunque 10 punti ti consente di stare in zone alte della classifica perché come vediamo il campionato è molto equilibrato, non c'è il Catanzaro di turno dell'anno scorso le difficoltà le stanno avendo un po' tutti perché anche il Crotone, Benevento, non sono partiti forse come si immaginava ecco, l'Avellino stesso, quindi di problemi ne stanno avendo tanti di società perché il campionato è equilibrato e secondo me è un campionato anche diverso dall'anno scorso, c'è un tipo di calcio diverso io non so ora se è stata una vendata di allenatori venuti da altri gironi, insomma quest'anno si vede un calcio più giocato in Serie C con strategie degli allenatori che diventa fondamentale per quello che poi è il risultato, però sicuramente io lo reputo un campionato più difficile ma molto molto più bello